Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale ArteAllegra. Vi siete mai chiesti se è possibile poter imparare il pianoforte in età adulta? Bene, è una sfida su cui mi sto cimentando. Più di 30 anni fa ho studiato il pianoforte, ma l'ho potuto fare solo per breve tempo poiché nacque poi mio figlio e ho avuto altri impegni. Così adesso ho deciso di riprenderlo. Lo studio da autodidatta anche perché mi farà aiutare da molti tutorial che ci sono online. A me è sempre piaciuto poterlo studiare e suonarlo fin da quando ero bambina, ma non mi è stato possibile poterlo fare. Così adesso mi sto cimentando nello studio del pianoforte da autodidatta. Sono 15 giorni che ho ripreso a studiarlo con una certa costanza e vedremo piano piano i miglioramenti che ci saranno. E ti avrò il piacere di condividere con voi. Vi lascio i video e ci vediamo presto. Ciao. a 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